Tornano le domeniche ecologiche a Roma. La Giunta ha infatti reso noto un nuovo calendario in cui sarà previsto lo stop al traffico totale in cinque giornate tra novembre e marzo per controllare l'inquinamento atmosferico sul territorio capitolino. I valori delle concentrazioni degli inquinanti, infatti in particolare del biossido di azoto, risultano tuttora elevati e in diversi casi superano i valori limite fissati dalle normative vigenti. Al momento sono cinque le domeniche in cui verrà fissato il divieto totale di circolazione dei veicoli nella zona ZTL fascia verde. Si parte il 19 novembre e il 3 dicembre per proseguire nel nuovo anno il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo. Per ognuna delle giornate il divieto sarà applicato nelle fasce 7.30, 12.30 e 16.30, 20.30. Le categorie derogate o sentate dai divieti saranno riportate negli specifici atti applicativi. Le date e gli orari potranno ancora subire modifiche tenuto conto del contesto ambientale di riferimento o del verificarsi di particolari eventi.